Sarà una rassegna concertistica che pone al centro la bellezza. Potenza espressiva capace di ridare speranza e coraggio e valore che genera il sentimento del bello. La rassegna note di bellezza è organizzata dall'Arcidiocesi Pescara Penne in collaborazione con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo. Un viaggio musicale in quattro serate che coinvolge grandi artisti della panorama internazionale. La manifestazione è realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla cultura e il patrocinio della comune di Pescara. Inizierà il 3 ottobre per poi proseguire nelle serate del 10, 16 e 24. Sì, sono quattro appuntamenti dove come direzione artistica ho coinvolto artisti veramente di chiara fama internazionale. Il primo è speciale perché il De Brando d'Arcangelo è un nostro conterraneo, è una star e sta facendo ora all'Oassi dello Spirito una masterclass dove partecipano ragazzi che vengono da Genova, da Venezia, da varie parti, anche da Battipaglia, varie parti d'Italia. È un progetto sull'opera lirica che sta partendo con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo e l'Associazione Giapponese Le Muse. E questo primo evento sarà proprio un evento finale dove canteranno questi ragazzi accompagnati dall'Orchestra Femminile, probabilmente anche il maestro De Brando ci farà una sorpresa. Tutti gli ingressi sono gratuiti. Come Assessore alla Cultura ho dato la massima disponibilità per poter far sì che due serate potessero essere presentate all'Auditorium Flaiano il 3 ottobre e l'altra all'Aurum il 10 ottobre, proprio anche in occasione della celebrazione del nostro Santo Padrono di San Cetteo. Siamo stati scippati per un bel periodo di tempo della vita normale, della vita bella, della vita serena e sentiamo che intorno a noi c'è un po' di fatica a riprendere una vita bella, una vita serena. All'altra questa serie di concerti che ha come titolo proprio note di bellezza perché siamo convinti che la bellezza salverà il mondo, salverà la storia, salverà gli uomini, le cose. Se perdiamo il senso della bellezza, come purtroppo in molte circostanze gli uomini e le donne incattiviti stanno perdendo in questo tempo, sicuramente non andremo verso una bella strada. La bellezza ci vuole riportare sulla strada giusta. Secondo lei questa pandemia ha poi alla fine insegnato qualcosa o quello che credevamo fosse insegnamento è già dimenticato insieme magari alle cose più brutte della pandemia? Ma innanzitutto all'inizio della pandemia sicuramente c'è stato un grande momento di solidarietà, un grande momento di avvicinamento delle persone le une alle altre. In questa ultima fase, in questo secondo e terzo momento, questo momento di solidarietà purtroppo sta scomparendo. Quasi che le persone si sentissero espropriate di qualcosa e che quindi se ne volessero riappropriare facendo valere anche diritti qualche volta giusti, ma qualche volta anche inesistenti. E allora chiaramente si creano le contrapposizioni e poi il clima, diciamo così, di contrapposizione sulle varie decisioni che in qualche modo sono state prese per la salute pubblica certamente non ha aiutato il cammino di serenità. Se fosse durata meno avremmo fatto come umanità più bella figura? Sicuramente sì, ma queste non sono decisioni che spettano a noi e non spettano nemmeno al Padre Eterno perché la malattia è la malattia, per cui essa va avanti per suo conto.